Mi trovo nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala di Milano e sono in compagnia di Paolo Nevi, tenore. Paolo Nevi ha da poco interpretato il ruolo di Paolino nella produzione di Un matrimonio segreto di Cimarosa con la direzione d'orchestra di Ottavio D'Antone e la regia di Irina Bruc. Ma facciamo un passo indietro. Come è nata la sua passione per il canto lirico? La mia passione per il canto lirico è stata un po' un caso perché io prima di fare questo mestiere o comunque di studiare per fare questo mestiere facevo tutt'altro genere, io avevo una band punk rock, quindi facevamo tutte altre cose. Il chitarrista del mio gruppo si trasferì a Parma perché a Parma c'è un indirizzo pop rock nel conservatorio e io seguì lui, però dato che a liceo un po' avevo studiato canto lirico ho deciso, facciamo canto lirico, anche se non sapevo esattamente cosa fosse. Dato che non sapevo cosa fosse esattamente, un giorno ho detto ma andiamo in teatro, vediamo di cosa si tratta. Quindi andai a vedere Bohème in teatro e Bohème è un'opera che rapisce. Sono uscito dal teatro dicendo voglio fare questo, nella mia vita voglio fare questo. E passare dal canto pop rock, come lei lo ha definito, ad invece un rigore dello studio di uno spartito di musica classica anche se credo che probabilmente anche nel pop e nel rock c'è un rigore, ci sia una preparazione, ci sia una disciplina. Sì, tutto si può fare con disciplina e tutto si può fare senza disciplina ovviamente. Diciamo il passaggio è stato un po'... non è stato in realtà molto lento, è stato repentino perché da un giorno all'altro veramente ho deciso non voglio fare questo nella vita e ovviamente lo studio diventa più intenso bisogna pretendere tanto da se stessi bisogna sempre dare il 100% perché ovviamente il canto lirico, il bel canto deve essere perfetto, non deve avere sbavature nella tecnica, nell'interpretazione mentre nel rock diciamo se ci sono delle sbavature magari è anche bello, no? tante volte, se sono sempre pensate. Il livello sociale è stato strano, no? Perché i miei amici, le persone che mi conoscevano mi conoscevano in una maniera poi il giorno dopo ero tutta altra persona, no? o facevo tutte altre cose per quanto alla fine la persona è sempre quella io sono sempre me stesso sono l'unica cosa che mi piace fare un altro genere mi piace fare teatro soprattutto. da un punto di vista vocale quali sono state le difficoltà nel passare, come diceva lei da quello che può essere la nota sporca, che dà carattere, che dà interpretazione nel repertorio rock invece ad un rigore, ad un essere, controllare i suoni io l'ho sentita cantare nella recita di Matteo Vanno in segreto ha un bellissimo timbro e una grande voce per cui credo che quello a cui lei deve stare attento è governare la sua voce secondo me nel canto, nella tecnica va molto anche la psicologia nel senso, un cantante deve stare molto attento anche a porgere molta attenzione sullo stato emotivo perché tecnica a volte è molto correlata allo stato emotivo tante volte una persona dice io questo passaggio non riesco a farlo non riesco a farlo, non riesco a farlo più dice non riesco a farlo e più non viene magari lascia perdere lo spartito l'aria che sta cantando, quel passaggio per mesi lo riprende e viene in maniera molto naturale lei frequenta l'accademia, ha frequentato l'accademia del teatro alla scala per cantanti lirici in questa accademia ci sono insegnanti di tecnica vocale ci sono ripassatori di spartito poi avete molte occasioni per stare in palcoscenico perché se ne sarà reso conto subito un conto è cantare un'opera di fianco a un pianoforte in piedi un conto poi è essere su un palcoscenico e credo che l'accademia del teatro alla scala in questo dia un grandissimo valore aggiunto non solo per la qualità degli insegnanti ma perché dà ai propri prescelti l'opportunità di calcare il palcoscenico non solo nelle produzioni come è stato il caso del matrimonio segreto fatto interamente dall'accademia ma perché vi si è data qualche volta l'opportunità di far parte anche delle produzioni scaligere di fianco ai grandi insegnanti i grandi cantanti del passato hanno sempre affermato che imparavano moltissimo dai colleghi il modo di come uno respirava come teneva il diaframma non solo da un punto di vista musicale ma proprio da un punto di vista tecnico lei ha avuto esperienza ha avuto la possibilità oltre ai titoli dell'accademia di partecipare a messa in scena di altre produzioni scaligere nonostante il covid io personalmente ho avuto delle belle opportunità ho lavorato, ho fatto piccoli ruoli e anche un ruolo un po' più grande in una produzione per bambini Don Ramiro della Cenerento ho fatto ruoli piccoli in Nozze di Figaro come Don Cursio, Benvolio nel Romeo Giulietta ho lavorato, ho studiato guardando altri miei colleghi senior ed effettivamente è totalmente vero quello che dice si impara tantissimo ascoltando, guardando, conoscendo, ascoltando anche parlare le persone io per esempio ho avuto una bellissima esperienza in Nozze di Figaro perché sono stato proprio accanto a Simon King, che è una persona speciale di una carineria, una persona che parlava con te, ti dava consigli, ti raccontava mi è rimasto molto nel cuore ho avuto la possibilità anche di stare molto vicino a Diana Tamrao, Vittorio Grigolo quindi diciamo che guardando questi professionisti Rosa Fevola, fantastica guardando questi professionisti da vicino un po' ti senti piccolino però nonostante questo comunque ti viene voglia di essere come loro e rendendo il più possibile riesci magari anche ad arricchire il tuo bagaglio culturale il tuo modo di cantare sì quindi è stato, l'accademia è stata fantastica per questo è stato, l'accademia è stata fantastica per questo è stato, l'accademia è stata fantastica per questo è stata fantastica per questo Debuttare sul Pagone Scenico della Scala con un gruppo di artisti e di musicisti colleghi con i quali si è condiviso tanti mesi di studio e di lavoro sicuramente facilita il compito di un debutto in un ruolo importante come è stato il ruolo di Paolino nel matrimonio segreto di Cimarosa. Nella vita non sarà sempre così, succederà sicuramente che avete dei colleghi per i quali non avete simpatia o un direttore d'orchestra che non vi ama o un regista che non vi ama. È una carriera in questo molto difficile dove credo si debba mantenere un centro, una convinzione di quello che si è essendo però aperti a mettersi in discussione. Questa esperienza con i miei colleghi ha facilitato il tutto perché sei sempre a contatto con delle persone familiari, delle persone a cui vuoi anche bene, con cui hai spesso molti mesi di prove e quindi poi stare sul palco diventa un po' più semplice. Mentre effettivamente io ricordo che quando ho fatto Don Curzio avevo l'ansia perché vicino a me non c'era il mio amico, c'era Rosa Feola, c'era Simon Killiside, c'erano Luca Michelet e quindi c'è nel senso che è un po' diverso, molto diverso. Per quanto alla fine sul palcoscenico avevamo Pietro Spagnoli, però comunque è diventato nostro amico anche lui, è diventato anche lui uno studente dell'accademia. Per quanto riguarda invece come affronterò questo problema che mi ha posto del direttore che magari non è d'accordo con me, il regista che magari mi sono antipatico, non lo so. Credo che sia un rapporto intersociale, un rapporto intersociale, un rapporto normalissimo che bisogna affrontare con maturità, diplomazia soprattutto. Ovviamente bisogna sempre essere autocritici. Io personalmente sono uno che dà sempre ragione, mia madre è una professoressa d'inglese, non c'è niente, però io do sempre, per mia educazione, do sempre ragione al professore o al maestro, quindi solitamente io... Non metto in discussione. Difficilmente metto in discussione, per quanto in realtà, ovviamente nei limiti, se il maestro mi dice una cosa che effettivamente non è vera o che credo sia fermamente che non sia pertinente o quello che stiamo facendo, io metto in dubbio la sua opinione ovviamente, perché se no sarei una macchina e questo non ci piace. Lei lo sa meglio di me, ai cantanti è richiesta, non viene più perdonato il fatto magari di non essere così in confidenza con il solfeggio. Oggi un cantante, un direttore d'orchestra si accorge in 5 secondi, si chiara davanti, è in difficoltà sul decifrare uno spartito. E questo oggi non è più possibile. Ma in realtà io credo oggi come allora, perché al tempo di Cimarosa, io studiando un pochino quest'opera, mi sono cimentato anche nello studio del manuale per canto, del trattato di canto di Garzia, e nel secondo volume alla fine c'è proprio un esempio delle variazioni possibili che si possono fare proprio sull'aria di Paolino. E questa cosa mi ha perso un mondo, perché lì ho capito due cose, che all'epoca, a parte che tante volte si dice, no, queste opere nel periodo classico sono un po' banali, ci stanno poche note, perché una volta leggendo questo trattato mi sono reso conto che improvvisavano delle loro variazioni, e quindi il cantante, a voglia si era musicista, scusate. Certo, anche una, mi allaccio a quello che lei ha appena detto, in realtà un pianista, un violinista, è vero che ognuno ha la propria artisticità, ha il proprio temperamento, ha la propria conformazione della mano, però le corde vocali sono il vostro strumento, e questo strumento è invisibile all'occhio umano, cioè il suo insegnante, la signora Vintino, che probabilmente le insegna, le insegna canto, non riesce a vedere come è fatto il suo strumento, lo intuisce dal colore della sua voce, da quanto va in profondità, o quanto riesce a salire, dal punto di vista dell'estensione, dalla grandezza, il cosiddetto, della sua voce. Però il vostro strumento nessuno lo vede. Vero è che i cantanti lirici nascono ognuno con delle caratteristiche molto chiare e molto definite. In passato si è parlato dei grandi filati, per esempio della signora Ganger, che è stata una grandissima insegnante di questa accademia. la signora Ganger quei filati ce li aveva in maniera naturale, non ha dovuto studiare per avere quei filati. La signora Freni, i filati, non era grande per i suoi filati, aveva delle altre caratteristiche. Questo per dire che ogni cantante lirico lavora sul proprio materiale strumentale, deve cercare di affinare dei difetti, ma poi deve lavorare sui pregi. Per cui anche quello che lei dice improvvisavano. In realtà a quel tempo lasciavano il cantante più libero e se c'era un cantante che aveva una grandissima facilità nella coloratura, gli davano spazio per fare quello che voleva. Poi a un certo punto, nell'Ottocento, ci sono stati compositori che hanno detto adesso calma, perché scriviamo quello che vogliamo che venga eseguito. Però diciamo che la verità in realtà è che voi cantanti, voi tenori, ognuno è diverso dall'altro perché il proprio strumento è diverso. Non sarete mai uguali a nessuno perché la conformazione del suo fisico non ha una replica nel mondo, ce l'ha solo lei. per cui il mistero della voce è il mistero dell'essere umano, che non c'è una regola uguale per tutti, credo. Sì, no, sono d'accordissimo con quello che dice lei. Io per esempio ogni tanto ho sempre sentito dei miei colleghi che dicono io non ho le agilità, io questo non l'ho mai creduto. Non lo so, forse è perché sono giovane e ancora devo apprendere tante cose, però è una cosa che proprio non credo perché l'agilità è una cosa che secondo me si studia a tavolino. Ecco, per esempio, quando lei mi dice che ha cantato Ramiro nella Cenerentola, dopo che io l'ho sentita nel Paolino, ecco, lei ha la coloratura, quindi riesce a fare l'aria di Cenerentola, del tenore della Cenerentola. Ah, caspita, perché lei ha una voce molto rotonda, molto ben timbrata, non che Don Ramiro non deve essere la voce timbrata. No, certo, sì, ma sento una voce lirica. Sì, sì, ma io non credo neanche in questo, perché io purtroppo vado un po' forse per natura, perché mio padre è anche così sempre controcorrente, cioè non mi piace dire questa voce lirica, quindi non può fare questo repertorio, questo repertorio, perché per un ragionamento in realtà molto magari anche banale, all'epoca di Rossini non esisteva Cuccini, si cantava ovviamente in una maniera diversa, però se tu c'avevi la voce grossa o comunque c'avevi una voce... Ti toccava a cantare comunque Cenerentola. Sì, cantavi Cenerentola o cantavi comunque magari un tenore drammatico con una voce molto scura avrebbe fatto la carriera da baritono. Quindi tante volte le cose vanno viste, secondo me, da dei punti di vista, non dico filologici, però più liberi, no? Adesso siamo molto quadrati su questa categorizzazione. Ci sono delle eccezioni che confermano la regola forse, Gregory Cunde è un esempio del padre, ma la stessa Luciana Vintino, lei ha fatto tutto la nostra... Certo, però come Gregory Cunde credo nessuno. Sì, no, come Gregory Cunde. Cioè io non so se Juan Diego Flores un giorno potrà cantare Otello di Verdi, e Cunde lo fa. Ovviamente voi, come dice lei, siamo tutti diversi. Come gestisce l'ansia da palcoscenico? Lei è uno che prima di entrare, quando è in camerino, quando dicono cinque minuti, dice vorrei essere in piazza a giocare a calcio, o non vede l'ora di andare in palcoscenico? A me non piace il calcio. Però, no, devo essere... Se sono sicuro, o comunque all'80% sicuro di quello che sto per andare a fare, come lo sto andando, come lo sto per affrontare, l'ansia non... Ho solo quella utile, diciamo, quella utile per performare in una maniera giusta, per dare giusto sfogo al proprio corpo. Se invece non sono sicuro di quello che sto facendo, a parte che sicuramente sbaglio. E poi sì, non tremano le gambe, perché è una questione proprio di sicurezza. Spesso si dice degli artisti, di chi è su un palcoscenico, la fortuna di stare su un palcoscenico, la fortuna di lavorare con persone, con artisti. Capisco la difficoltà della vita dell'artista di oggi, come l'artista del passato. L'artista tutte le sere è giudicato per quello che sta facendo. Quello che tu hai fatto di bene una settimana fa, un mese fa, non vale mai. Vale solo quello che stai facendo in quel momento. A questo proposito c'è una bellissima frase, la dico a lei che è giovane e se la ricorderà, una bellissima frase di Maria Callas, che diceva «Voi non sapete la fatica che fa Maria tutte le sere per essere la Callas». e questo credo che racchiude la vita di un artista. Cioè, un artista lotta per affermare il proprio talento, per dimostrare al mondo che vale. Una volta che l'ha dimostrato, deve continuare a dimostrare che è all'altezza del suo nome. e questo generalmente succede quando uno raggiunge l'apice del suo successo, con la maturità della sua carriera artistica e poi all'apice del suo successo si rende conto che inizia a invecchiare, la voce non è più quella di un tempo, oppure un ballerino, il corpo non è più quello di un tempo e ogni sera deve lottare per mantenersi a quel livello. Quindi, spesso e volentieri, gli artisti diventano delle persone difficili perché la loro vita è difficile, perché sono chiamati ogni giorno a portare in scena qualche cosa che portano con grandissima difficoltà. Certo, sì, è un problema che bisogna sempre porsi, questo della mettersi... Diciamo che la vita dell'artista, possiamo dire, non si esce mai dal mio periodo, quello delle audizioni. È sempre un'edizione, magari prima è col direttore artistico, col sovrintendente, poi dopo diventerà col pubblico. che nello vino al bassa, che nessun non ci sentirtà, che nessun non ci sentirà, rosa, ronda, 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 ronda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.